La scelta di Adamo Coppola di abbandonare la corsa alla carica di sindaco ha di fatto liberato tutta una serie di candidati che si sono messi alla ricerca di una nuova collocazione. Fra questi fanno sicuramente più rumore gli amministratori uscenti. Se infatti Eugenio Benevento ha reso nota da tempo la sua scelta di non candidarsi, l'altro assessore rimasto fedele a Coppola, Gerardo Santosuosso, sta valutando la sua futura collocazione. Probabile un suo rientro nella coalizione di centrosinistra guidata da Roberto Mutalipassi. Secondo i suoi calcoli sarebbe la soluzione più comoda per puntare a una rielezione e a una conferma ingiunta. Dopo gli stracci volati nelle ultime settimane sembrano orientati in tal senso anche altri consiglieri uscenti. Gino Framondino, Salvatore Coppola, Nicola Comite e Giuseppe Cammarota. Anche se non sono da escludere sorprese dell'ultima ora. Gli altri candidati sindaci infatti non stanno certo a guardare. Da un lato Costabile Spinelli insiste per una collocazione politica di aria centrodestra. Dall'altro tanto Elvira Serra quanto Massimo Laporta stanno tentando di offrire adeguate collocazioni nelle proprie liste proprio per garantire una prospettiva di rielezione. È delle ultime ore inoltre la scelta di Giovanni Basile di appoggiare la porta con un proprio candidato. Mentre Raffaele Pesce rivendica la propria estranietà rispetto alle trattative in corso per accaparrarsi i consiglieri uscenti. Le sue due liste sono ormai complete e in settimana prossima avvierà con Gazebo in piazza la raccolta delle firme nel segno, dice, della coerenza e della trasparenza.